Risultato a sorpresa del test antidroga in Parlamento voluto dal Ministro Giovanardi. Soltanto un politico è risultato positivo alla cocaina. Franco Rina. Un onorevole positivo alla cocaina. È il risultato delle analisi compiute lo scorso novembre sui 232 parlamentari, deputati e senatori, che si sono sottoposti volontariamente al test antidroga. Il nome del parlamentare risultato positivo rimarrà segreto. Non si sa né se sia un uomo o una donna, né se si tratti di un senatore o un deputato. Personalmente, come è stato detto autorevolmente da alcuni senatori o deputati che vogliono presentare disegni di regge per rendere obbligatorio il test per i parlamentari, io sono favorevole a queste ipotesi, ma a legislazione vigente la cosa massima che potremmo fare è appunto questo test volontario per dare ad ogni parlamentare l'opportunità di dimostrare davanti all'opinione pubblica la sua situazione. Gli esami sono stati svolti da laboratori altamente specializzati che negli ultimi tre mesi hanno esaminato campioni di capelli e urina dei deputati e dei senatori. Sono 29 ai parlamentari che hanno espressamente negato il consenso alla pubblicazione non solo dei risultati del test, ma anche del proprio nome e tra questi figurano anche alcuni promotori del test.